Iniziato questa mattina l'iter per l'istituzione della nuova agenzia di protezione civile regionale. Nella seduta congiunta della prima commissione bilancio e della seconda commissione territorio si sono tenute le prime audizioni sul progetto di legge approvato dalla giunta regionale lo scorso luglio. Alle audizioni ha partecipato anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri che ha ricordato come il testo sia nato da una collaborazione interistituzionale tra gli uffici della giunta e del consiglio regionale. Ad essere sentito dai commissari è stato il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio che in una lunga audizione ha dapprima illustrato ai commissari le linee guida della governance dell'agenzia per poi rispondere alle domande poste dei consiglieri. La costituzione di un'agenzia che rende più moderna, più efficiente, più veloce e rapida la catena di comando della protezione civile che è un elemento determinante per salvare vite umane e mettere in sicurezza il territorio quando capitano delle calamità. Oggi la protezione civile regionale è organizzata in maniera burocratica all'interno di un dipartimento con diversi uffici quindi anche con difficoltà di coordinamento tra di loro e con una catena di comando farraginosa e troppo lunga per prendere decisioni in tempo utile e tempestivo. Per il Movimento 5 Stelle è stato il consigliere regionale Giorgio Fedele a porre alcuni interrogativi sulla parte finanziaria della legge. Ci sono dei costi che non collimano perché il presidente della giunta ha riferito che la riforma all'istituzione sarà fatta sostanzialmente a costo zero perché non si andrà a pesare ulteriormente sulle casse regionali trasferendo il personale che c'è adesso. Da quello che c'è scritto nella legge però non si tiene conto dell'assunzione del direttore dell'agenzia né quantomeno del revisore legale. Due cose che delle due luna o andiamo ad aumentare la dotazione di risorse da parte della regione o dobbiamo ridurre quella a danno però del servizio della capacità di operare della protezione civile. Mentre il consigliere Amerigo Di Benedetto del gruppo Legnini Presidente ha posto l'accento sulla necessità di costituire un'agenzia che aiuti i territori e i sindaci a gestire la fase emergenziale. È positivo se questa agenzia al di là di tutte le attività che deve svolgere nell'ordinario possa essere messa nelle condizioni nello straordinario di agevolare la fase quella del superamento che riguarda il superamento dell'emergenza primaria, nello specifico attraverso un'azione di vicinanza che ha poi la responsabilità dei suoi territori e in maniera predominante i sindaci evidentemente. Su questo aspetto io ho fatto una serie di domande, ho avuto delle risposte con una buona dose diciamo così di certezza che questo potrà accadere e lo potrà accadere soprattutto se nell'ambito dell'agenzia ci saranno le adeguate risorse finanziarie, anche quelle straordinarie poi da ridare al ristorio di chi anticipa le spese. Grazie a tutti.